Piana degli Albanesi è una delle eccellenze storico-culturali della Sicilia, una comunità che si definisce Harbresh, fondata 500 anni fa da alcuni profughi che scapparono dall'Albania sotto l'assedio dei turchi e qui si insediarono, mantenendo proprio una comunità, ma non soltanto anche le proprie tradizioni. Quello che vedete alle mie spalle è il lago di Piana e come vedete questa è tutta una valle, una valle piena di pini, piena di alberi, ci sono degli olivi. Quella che vi proponiamo è una proprietà proprio immerso in questo incanto. 5.000 metri quadri di terreno sono quelli che vedete tutto intorno e fra pochissimo esploreremo la casa. Entrando dal cancello esploriamo le bellezze di questa proprietà. Già a cominciare da questo sentiero in pietra o per esempio la comodità di quel posto macchina, di quei quattro posti macchina, un vero e proprio garage con pergolato. E poi a proposito di pergolato andando avanti vediamo proprio questo porticato che è molto bello perché qui fuori i materiali utilizzati sono pietra e legno. Quindi immaginatevi la calma, la tranquillità, la possibilità di vivere in questa zona della Sicilia, a soli 20 chilometri a Palermo, quindi con la comodità anche di andare in una grande città ma senza la frenesia di una grande città. E guardate per esempio quello che potrete fare anche qui estate o inverno, godere di questa pace, di questa tranquillità. Senza poi dimenticare il fatto che ci sono veramente tante comodità, questa vista bellissima che è quella del lago e questo barbecue che è interessantissimo. Fra l'altro accanto al barbecue c'è anche una fornace che viene utilizzata per fare una delle eccellenze del territorio, insomma quella salsa di pomodoro con i pomodori locali che assume una caratteristica, un sapore diverso proprio dato dal legno che brucia sotto e che quindi dà un sapore diverso anche attraverso la pentola che cuoce questo pomodoro. E guardate questo sfondo, questi 5.000 metri quadri di terreno con queste olive, questi altri alberi, questi pini, questi alberi da frutto, sicuramente una proprietà dove poter vivere se non solo per passare le vacanze estive in Sicilia. Ma esploriamo l'interno e vediamo questi 70 metri quadri su due elevazioni. Da questa piccola veranda entriamo, così vi mostro com'è l'interno di questa casa che è veramente una delizia perché è comoda in tutto. Attenzione perché così come la vedete in questo video vi sarà data, cioè è piena di immobilio, il mobilio è incluso nel prezzo. Ci sono due camere da letto e un bagno, vediamo questo bagno che sicuramente sarà di vostra utilità e di vostro conforto, una prima camera da letto e una seconda camera da letto. Più una camera da letto nel piano superiore che esploreremo subito dopo aver fatto questa scala, quindi esserci arrampicati su e godere di una vista incredibile. Salendo dalla comoda scala vediamo a questo altro livello, questo primo piano, la comodità di questo manzardato con un solo letto che vi verrà fornito, ma in realtà potrete anche metterne due, tre, quattro, dei letti a castello, delle soluzioni. Potrebbe essere la camera per i vostri ragazzi, potrebbe essere la camera per i vostri ospiti, ma potrebbe essere forse la vista più bella che abbiate mai avuto perché da qui, da questo balcone, sull'altro livello, così come nella veranda giù, si gode di questa vista incredibile, quella del lago di Piana di questa valle della Sicilia.